Se devo scazzare tutte le volte questo è un piede È venuta bene però dai, questo è venuta bene Però i pezzi di canoforte dall'alto si vedono diversamente, non lo posso fare Quello si, dall'alto, ah perchè è in piedi Non so in piedi, c'è la che sarà più alta che posso metterla è qui Quell'altra deve essere più bassa, secondo il posto sono ad acquistare Vabbè dai, secondo me erano bischiaratine, erano bischiaratine e loro l'avranno capito Perché insomma, dai Però, dai, loro davanti si sono a sedere Sì sì va bene, di che è sembrato? Mi hai scelto da poco? Ma c'è una volta al controsenso che mi ha perso Non lo fa bene, guarda Ti dirò, ti dirò, mi fa bene Al controsenso, va bene, potrò sedere E ora c'è la cosa a sgallerare Ma poi fino a Makrish la seconda volta si è portata bene Sì no Eh, cioè, normale Io, prima, prima Per me era inesistente tutto No, lo so, senza spie Senti un pastone, l'avevo ce l'ho sentito Perché l'ho fatto a casa? L'ho fatto di sfondone Non avevamo fatto una casa così Io non lo so perché l'ho sentito solo a Makrish Mai, mai, mai Non c'è, non c'è Mai Senti, sei da riporto a Makrish Eh, basta, c'è da risonare? Lascia lì Di un po' dove è andata? Sì No, no, no L'ho fatto professionalmente, l'ho più emozionale Insomma Eh eh Voi sono decisato Sì 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 Insomma, vi abbiamo provato Sì Sì Aspetta gli altri C'è anche da caricare eh Vabbè, guarda Che vitaccia Molento Non ci penso eh Che vitaccia Sì Ah, no Ma, 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 ma Ma, ma, ma Da parte di tastiera Dai, dai Sì Da parte di tastiera dici gli accordi no quella viola quella viola non è gli accordi eh che è successo? pensavo ad altri dischi che vuol dire uno dischi inseriti? è uno cd degli occhi ah pensavo ad altri sensi